Ciao a tutti, continuiamo il nostro viaggio nell'antico Egitto. In modo particolare in questa lezione cominceremo a prendere in considerazione i fatti, gli avvenimenti compresi fra il secondo millennio a.C. e la conquista romana. Il nostro percorso in particolare si soffermerà sul periodo che va dal primo intermedio alla battaglia di Azio del 31 a.C. quando l'Egitto perde la sua indipendenza ed entra a far parte dell'impero romano, il passaggio dal regno all'impero nell'antico Egitto e poi analizzeremo le vicende legate ai faraoni più importanti. Cominciamo innanzitutto a prendere in considerazione il primo periodo intermedio. Gli storici hanno definito intermedio l'intervallo di tempo caratterizzato da conflitti, tensioni ed instabilità politica compreso tra un periodo e l'altro della storia romana. Il primo intermedio, che va dal 2150 al 2050 a.C. circa, è infatti compreso fra l'Antico Regno e il Medio Regno. È stata una fase caratterizzata soprattutto da guerre civili. Infatti, i membri dell'aristocrazia che governava le province, che venivano chiamate nomi, lottarono tra loro con l'appoggio anche della classe sacerdotale, il cui scopera quello di rafforzarsi, di diventare sempre più potente, contendendo il potere allo stesso faraone, approfittando della fase di debolezza in cui appunto il potere regio si trovava. A partire invece dal 2050, dopo una fase di conflitti e di tensioni, che come vedremo si ripresenteranno nella storia egizia come una costante, inizia un nuovo periodo della storia egiziana. I signori di Tebe, nell'Alto Egitto, vediamo qui indicata Tebe nella zona dell'attuale Luxor, riescono infatti a riportare unità nel regno. Fu questo un periodo di prosperità economica e di espansione territoriale, soprattutto con il faraone Sessotri III, che conquistò parte della Nubia, corrispondente all'attuale Sudan settentrionale, una regione particolarmente ambita soprattutto per i suoi giacimenti d'oro. L'Egitto, durante il Medio Regno, esce anche dall'isolamento, in cui era stato fino a quel momento, estendendo i suoi commerci all'area siro-palestinese e anche al Mediterraneo orientale. Ora, alla metà del XVIII secolo, quindi intorno al 1750 a.C., si apre il cosiddetto secondo periodo intermedio, che dura all'incirca sino al 1540. Cosa succede? Che a causa sia di crisi climatiche, che portarono carestie nel vicino Oriente, sia della necessità di mano d'opera, grandi masse di contadini semiti, provenienti proprio dall'area siro-palestinese, migrano verso l'Egitto a migliaia, tanto da riuscire con il tempo a fondare un loro regno con capitale avari nel Basso Egitto, come vediamo in questa immagine, sfruttando ovviamente anche la debolezza delle dinastie faraoniche di quel periodo. Questi popoli cominciarono ad adorare Seth, il dio Cane, che per gli Egizi era il dio del male. Vi ricordo che, secondo il mito, è il fratello assassino di Osiride. Per cui gli Egizi cominciarono a chiamare con disprezzo questi nuovi arrivati nella loro lingua principi stranieri, nome, principi stranieri, che poi i greci avrebbero tradotto con Ixos, nome che noi usiamo ancora oggi per indicare il popolo che costituì questo regno all'interno dell'Egitto durante il secondo periodo intermedio. Gli Ixos riuscirono ad imporsi sugli Egizi grazie all'uso del cavallo e del carro da guerra sconosciuti nella terra dei faraoni. Gli Ixos non furono un popolo di dominatori oppressivi. Infatti, gli ebrei, che a loro volta erano migrati in Egitto in cerca di terre e migliori condizioni di vita, vissero senza particolari problemi in Egitto sotto il loro dominio. Le cose cambiarono con l'inizio del Nuovo Regno, il periodo che è all'incirca compreso tra il 1540 e il 1070 a.C. Infatti, alla fine del XVI secolo comincia la rivolta degli Egizi contro gli stranieri, gli Ixos, i quali vengono ricacciati nelle loro terre di origini. A riuscire ad allontanarli definitivamente fu il faraone Tutmosi I, che non solo li allontanò dall'Egitto, ma riuscì a sottomettere anche Palestina, Fenicia, Siria e anche la bassa Nubia, cioè la parte più interna di questa regione. Con Tutmosi l'Egitto diventa un impero, quindi un impero possiamo dire afro-asiatico, visto i territori che comprendeva. Non è più un regno, quindi, che comprende solo terre lungo il corso del Nilo. Vi ricordo che per impero si intende una sorta di superstato nel quale vivono popoli di lingua, cultura e religioni diverse, appunto come era diventato l'Egitto, che ora si estende dalla alta Nubia, nell'attuale Sudan, sino alle regioni a nord della Mesopotamia, percorse dalle Eufrate. Tra i sovrani del nuovo regno troviamo anche una delle poche donne che governarono l'Egitto, la regina Atsepsut, che in verità non aveva il titolo di faraone, che era riservato solo agli uomini. Atsepsut salì al potere nel 1503 alla morte del marito e restò sul trono sino alla sua morte, 16 anni dopo. Governò quindi al posto del figlio legittimo erede, che era un bambino quando il marito della regina morì. Atsepsut si occupò soprattutto di politica interna. Infatti finanziò la costruzione di grandiosi edifici che abbellirono la città di Tebe, che era diventata la capitale del regno, dell'impero. Bellissimi templi come per esempio quello a lei dedicato, il tempio funerario che possiamo ammirare oggi a Luxor, costruito nella Valle dei Tempi. Un edificio che è considerato dagli studiosi un modello di architettura, perché, come potete vedere da questa immagine, si inserisce perfettamente, in modo armonico, nell'ambiente che lo circonda, con le sue terrazze e con le sue colonne che sembrano veramente fuoriuscire dalla parete rocciosa rossa che c'è alle sue spalle. In questo tempio è stata rinvenuta la testa in calcare dipinta che raffigura la regina con la barba cerimoniale che nel suo caso, essendo una donna, era posticcia e che veniva fissata con dei lacci legati dietro alle orecchie, secondo l'uso dei faraoni. Con Azebsut l'Egitto amplia anche il suo mercato. Infatti furono inviate spedizioni commerciali anche nelle regioni più interne dell'Africa per importare, per esempio, pelli di animali feroci, avorio, profumo e schiavi. Di questa prosperità economica approfittò in Egitto la classe dei sacerdoti diventati tanto ricchi e potenti a volte da sovrastare quasi lo stesso faraone. E fu anche per limitare e ridurre il potere dei sacerdoti che sempre nel nuovo regno il faraone Amenofi IV torno alla seconda metà del XIV secolo aiutato dalla bellissima intelligente moglie Nefertiti che vedete in questo busto cerca di imporre il culto di un nuovo e unico dio Aton, il disco solare, simbolo di Ra di cui il faraone, ricordate, si sentiva un rappresentante sulla terra. Amenofi IV, infatti, introdusse una riforma religiosa che prevedeva appunto il passaggio dal politeismo al monoteismo alcuni preferiscono parlare di enoteismo cioè di prevalenza del culto di un dio appunto Aton sugli altri. È evidente che si trattò di una riforma a scopo politico come abbiamo visto con l'intento proprio di indebolire l'autorità, il potere dei sacerdoti. Amenofi si fece chiamare in quanto appunto incarnazione di Aton Eknaton o Akenaton. Soffermiamoci ora ad analizzare questa scheda nella quale vediamo descritti i simboli della regalità faraonica più importanti alcuni dei quali ritroviamo anche in questa statua di Amenofi IV. Allora abbiamo innanzitutto il copricapo di stoffa a righe azzurre ed oro che era quello portato comunemente nella vita di ogni giorno dal faraone come quello che troviamo appunto in questa immagine. Il cobra eretto con la gola gonfia posizionato sopra la fronte è anche questo un altro elemento caratteristico della rappresentazione del faraone. Il cobra eretto è una manifestazione divina che protegge il re e ne simboleggia la potenza sulla terra. Poi vediamo in questa statua anche la barba cerimoniale che era segno di dignità e veniva portata tanto dal re quanto dagli dèi e poi qui vediamo rappresentata la corona doppia che come abbiamo già visto questo simbolo del governo sull'intero Egitto era nata dalla sovrapposizione della corona bianca dell'antico Egitto e della corona rossa invece del basso Egitto. La corona azzurra invece era una specie di elmo da guerra che vediamo in questa immagine utilizzato di solito appunto durante le battaglie.